L'infomi tra cure e vaccini, ospite la dottoressa Elsa Pennese del centro diagnosi e terapia linfomi della ASL di Pescara. Siete da subito riusciti a tenere la strada perché evidentemente immagino che soprattutto i primi mesi siano stati un po' di sbandamento come lo sono stati per tutti. Come è andata? I primi mesi sono stati veramente complicati ma direi che tutte le prime diagnosi sono state fatte senza interruzioni. I pazienti che hanno dovuto cominciare una terapia l'hanno cominciata e quelli che l'avevano cominciata hanno continuato a portarla avanti secondo il programma stabilito. Quindi senza interruzioni. C'è stato qualche piccolo aggiustamento per le terapie di mantenimento come dicevamo prima ma perché in quell'ambito eravamo ragionevolmente sicuri di poter procedere con questo atteggiamento. I pazienti che vengono seguiti in follow up in quel caso ovviamente li abbiamo dovuti tenere a casa. Quindi sono stati tutti ricontattati. I appuntamenti sono stati annullati ma li abbiamo invitati tutti a contattarci attraverso le mail e ad inviarci gli esami che hanno fatto nel corso dei mesi in modo da poterli monitorare a distanza. Grazie a tutti.